Siamo qui questa sera per fare un rifornimento, l'ifolnimento perché è molto meno di un rifornimento. Oggi si usavano con dei limitatori, questo è... Rimettiamo lo zucchero poi. Sì, rimettiamo lo zucchero, sto facendo qui in pieno. Vediamo. C'è il disino e scatta. Eh, ma io non l'ho tirato fuori assoluta. Stiamo arrubbando tutto. Il carburante. Fai così, tira un po' su. Devi ciucciare un po'. Se non ciucci, ciucci bene. Guardi solo fino a metà. No, no. No, ecco, quello che non devi fare. Principio dei vasi comunicanti. Però è un principio questo perché funziona poco. Non vuoi che filmi spastico. Mmm, ottima annatta questa. Cos'è un Chianti. Eh, ma solo che stai così in alto puoi fare a meno. Non ce la fai. Devi stare più in base. La fisica. No, devi stenderti per terra, se no non funziona. Ah, vedi il disino e scatta. Oh. Se vuoi ti presto la pompa Malossi. Non c'è, non c'è il contatto, Chase, dai. Sì, ma sono stati falsi. Falsi contatti. Persone false. Devo ciucciare io? Sì, ma se non ti metti, se non ciucci da stesso per terra non può funzionare. Ah, ho sentito dire anch'io. Ehm... Porco Dio, basta appoggiarlo dentro. Boh, boh, basta appoggiarlo dentro. Dai, tira. Basta appoggiarlo dentro, cheat. Sì, dopo poi se lo prende. No, è un po' tuo. Andate. Vai. In effetti era troppo. 20 metri di tubo dentro. Fate in tempo, sono lì da un'altra parte. Soffio dentro, se vuoi davanti a te, dal teppo. Fai l'avviamento così, dalla pacca con la pompa della benzina, anzi del diesel. Sta arrivando, sì, continua ad andare. Vedo le bolle che vanno avanti. Che troppo. Devo andare per terra. Però io voglio vedere il livello che va giù. Giro la chiave. No, c'è un galleggiante, uno mezzo fuori. No. No. Eh, se giri la chiave fa il check. Ha dato il check sul sedile. Te l'ho detto, se giri la chiave fa il... Rileva gli stronzi sul sedile per quello. È rilevato, vedi? Va giù la zancetta. No, è perché bisogna fare un strano errore. Oddio, porco. Dai, diamo ai altri giù. Secondo me grippa il serbatoio adesso. Oh, sta arrivando ancora comunque. Eh, figa, io qui. Sì, ma stiamo qua fino a dopodomani, eh. Lo dico subito. Beh, sì. A te ne lo facciamo. Oh, ottimo tempismo comunque, eh. Tutto documentato questo. Votalo dentro un'altra tannica. 300 ml ha tannica che riesci a prendere, più o meno. No, lì tanto te ne stanno... Romeni zero. Esatto. Resto del mondo quattro qua. Quante bestemmie siamo nel video, più o meno. Eh, ma un piriotto dov'è? C'è, c'è. C'è, c'è. Che stai facendo? Guarda, guarda, guarda. Guarda. Grazie.